Grazie mille, grazie mille presidente, per gli stimoli di questa relazione. Abbiamo introdotto la mattinata dicendo che ci servivano stimoli, ci servivano dati, ci serviva solidità per guardare avanti. Direi che questa relazione non ha mancato di darci tutti questi elementi. Andando avanti, vi porto in un mondo che caratterizzerà il prossimo intervento, un mondo che conosco molto bene, molto da vicino, è quello delle start-up. È stata citata anche dal presidente. Io appunto rappresento una start-up che nasce, chiedo alla regia se possiamo partire con la slide. Io guido una start-up che nasce esattamente quattro anni fa, quindi quando abbiamo recuperato i dati di questa ricerca di CB Insights, mi sono tolto un po' di sudore dalla fronte, benché in realtà poi sono delle linee immaginarie quelle dei quattro anni. sappiamo però quanto è complicato fare impresa, fare impresa innovativa in Italia. Sappiamo e lo vedete dalla primissima causa di fallimento delle start-up nei primi anni di vita, la difficoltà di recuperare capitali a sufficienza per poter sopravvivere. questo è un grande tema che riguarda sicuramente molto da vicino anche voi che siete player di un ecosistema, è già stata ripetuta più riprese questa parola. Come fare start-up? Come fare start-up in maniera solida, quindi non per fare un paio di deck colorati, mandarli in gira e vedere un po' come va, ma invece fare start-up significa fare impresa, ricordiamocelo. è una bella parola, start-up, che ci dà un po' di vento, di freschezza, però voi sapete benissimo che è esattamente quello che fate anche voi tutti i giorni nelle vostre aziende. E come farlo? È difficile, sono pochi casi di solido successo in Italia in questi anni, stanno crescendo per fortuna, non abbastanza, non abbastanza, in alcun modo non sono abbastanza rispetto in primis ai nostri partner europei, perché se il record di investimenti in start-up in Italia, quando è stato superato la soglia del miliardo, abbiamo tutti, diciamo, aperto le migliori bottiglie che avevamo quello stesso anno, la Francia, che non è la California, ha avuto un mercato di venture capital per 9 miliardi, quindi qualcosa palesemente non va ancora. Bisogna però, credo anche qua, rompere qualche tabù, aumentare un po' di propensione al rischio, forse anche verso le start-up, per farlo servono casi, casi solidi e di successo, ne abbiamo uno proprio di questo territorio, quindi sono molto felice di chiamare qui sul palco per raccontare una storia di queste parti, Andrea Carcano, co-founder e CPO di Nozomi Networks. Prego Andrea. Lascio il clic sul palo. Buongiorno a tutti, grazie, grazie della bella presentazione. Per me, prima cosa, oggi è un onore essere qui. Come ci siamo detti, oggi sono qui per parlare di innovazione e prima di raccontare, parlare un pochino di innovazione ci tengo a raccontarvi un pochino la mia storia, perché secondo me aiuta un po' a capire meglio. Innanzitutto io sono cresciuto a 800 metri da qua, quindi sono varesino, nato a Varese, ho studiato a Varese, ho fatto laurea trennale, specialistica, ho fatto un dottorato di ricerca, collaborazione con il JRC, parte in Italia, in parte all'estero, ma adesso sto in Silicon Valley. Sono in Silicon Valley da diversi anni e sono fondatore di un'azienda che si chiama Nozomi Networks, che si occupa di cyber security, in particolare cyber security di grandi imprese che hanno automation, quindi quello che noi definiamo la parte industrial, la parte core dell'azienda, ecco noi facciamo cyber security di quella parte lì che è uno degli aspetti più importanti. Ma nasciamo come una classica start-up, come vi ho detto io ho fatto un dottorato di ricerca, è finito il dottorato ho lavorato in Eni per tre anni, quindi ho lavorato in una grande impresa italiana e lì ho iniziato a dire ma se avessi il prototipo che ho sviluppato durante il dottorato con i problemi che vedevo nel day by day, insomma, con quell'idea lì potremmo essere più veloci a risolvere alcuni dei problemi. Ovviamente ho provato a convincere internamente il mio capo, poi il capo del capo, a sviluppare qualcosa internamente ma molto comprensibilmente. Era difficile per un'azienda che aveva un DNA che faceva oil and gas mettersi a sviluppare un software dedicato al tema cyber. Ma siccome avevo studiato profondamente il tema dal punto di vista dell'innovazione, della tecnologia durante il mio dottorato e perché avevo vissuto il problema lavorando poi in azienda per tre anni ho detto beh allora ci provo io. Un po' naif in realtà perché leggevo su Google come fare a trovare degli investitori, non conoscevo, sono un tecnico quindi sono un informatico, nasco come hacker, appassionato di cyber, quindi quella parte lì non era il mio mestiere, però con un po' di sana inconscienza siamo partiti. E siamo partiti di nuovo 800 metri da qua, il primo ufficio dell'azienda è stato casa dei miei genitori e lo è stato per un anno. Quindi io con l'altro fondatore Moreno Carullo, anche lui di Varese, anche lui ha studiato all'Insubria, siamo partiti e ecco mi muovo velocemente adesso per dirvi sono passati quasi dieci anni da quando siamo partiti. Oggi io sto in Silicon Valley, abbiamo raccolto in totale 350 milioni da investitori prevalentemente in tutto il mondo, tra cui la maggior parte negli Stati Uniti. Abbiamo recentemente chiuso un anno di investimento dove sono molto felice da italiano di dire che ha partecipato anche ai CDP, quindi insomma torna a essere un'azienda che comunque ha un DNA italiano. E adesso mi avvicino al tema dell'innovazione e dirvi perché ha un DNA italiano? Beh, perché lo sviluppo e la ricerca che noi facciamo oggi, noi sul nostro tema riconosciuto da analisti internazionali siamo considerati la numero uno, la numero due, insomma dipende l'angolo che prendete, ma siamo uno dei leader nell'offrire questo tipo di tecnologia. fatturiamo oltre 100 milioni, siamo quasi 400 persone, continuiamo a crescere e lo sviluppo e l'innovazione che noi facciamo, abbiamo recentemente vinto un award di Garner Innovation come azienda più innovativa del settore, la facciamo qua. quindi la parte di R&D, nonostante oggi io sono in Silicon Valley e l'azienda, ahimè, ha un airquarter, dico ahimè dal punto di vista italiano, ha l'airquarter oggi a San Francisco dove sto io, nella Silicon Valley, rimane quello che noi definiamo una dual company, cioè facciamo innovazione qui con ingegneri che vengono dal territorio qui e abbiamo poi la parte di airquarter a San Francisco. Ecco, e quali sono le cose che in questi dieci anni, ecco, ho imparato dal punto di vista innovation che oggi mi piacerebbe condividere? Beh, sono tre i temi che oggi mi piacerebbe raccontarvi sul tema di innovation. La prima, e con ognuno di questi una piccola storia associata, il primo è un tema di cultura che secondo me è importante e importante cambiare. Quando all'inizio noi pensavamo di raccogliere capitali, relativamente facilmente, senza conoscere l'ambiente, abbiamo fatto molta fatica a trovare qualcuno che investisse nella nostra idea. Secondo noi avevamo fondamento scientifico perché siamo una heavy technology, oggi abbiamo oltre 20 patent associati alla tecnologia, sia hardware che software, c'erano anni di ricerca dietro, ma era molto difficile, era molto difficile credere in due ragazzi che venivano dall'università con qualche anno di esperienza di lavoro che si mettevano a fare cyber security. Abbiamo incontrato diversi investitori e imprenditori che ci hanno detto avete mai visto un'azienda italiana che fa cyber security? questo è vero, quindi non ce ne sono molte e quindi era molto difficile. Quindi il primo punto che io mi porto a casa oggi vivendo nella Silicon Valley, che è estremamente diverso dal nostro, anche se, come dire, ci sono stati un sacco di miglioramenti rispetto a dieci anni fa, e l'ho sentito prima anche dire appunto dal presidente di Confindustria, la propensione al rischio. Quindi è l'embrace to fail, come dicono in Silicon Valley, quindi abbracciare il fallimento. Quando noi abbiamo trovato i primi investitori nella Silicon Valley, la prima domanda che mi è stata fatta è quante volte hai fallito? E la mia risposta in quel caso era zero, perché era la mia prima esperienza, era la mia prima impresa, e per ognuno di quegli investitori il fatto che io avessi fallito zero volte non era un vanto, era una mancanza, era qualcosa che mancava sul mio curriculum, perché provare, provare velocemente, fallire e riprovare ancora è uno dei DNA che sono proprio dentro nella cultura che io respiro oggi in Silicon Valley. Quindi secondo me quello è il primo, come dire, insegnamento che è fondamentale tenere a ovviamente. Il secondo riguarda il mindset. Il tema dell'innovazione non è un tema che riguarda solo una parte dell'azienda, è proprio un mindset che deve riguardare tutta l'azienda. Noi lo vediamo collaborando con tante aziende in Silicon Valley, oggi abbiamo clienti in tutto il mondo, quello che facciamo oggi ci ha portato ad avere presenza in tutti e sei i continenti, sia a livello di persone dentro in azienda, sia a livello di clienti e uno degli ingredienti essenziali per continuare ad innovare è quello del mindset. Partire dal presupposto e di mettere le persone dentro nell'azienda nella condizione di innovare sempre. Innovare, provare e fallire deve essere la parte del DNA di tutti i giorni. Al di là del ruolo, perché spesso si confina la parte di innovazione in un corner dell'azienda, in un'unità, in una business unit che ovviamente ci sta dal punto di vista organizzativo, ma il mindset di innovazione, di portare una nuova idea deve essere parte del mindset dell'azienda. Chi porta nuove idee deve essere premiato, qualunque ruolo sia. Da il capo dell'R&D a una persona che si occupa di sales, a una persona che si occupa di accounting. L'innovazione deve essere parte della struttura al 100% e questa è un'altra cosa che noi vediamo, che io ho imparato, perché quando sono andato lì non era, non è stato facile fare lo switch del mindset, perché appunto crescevo, sono cresciuto con un mindset che era diverso. E la terza parte è il tema collaborazione. Oggi noi non ci definiamo più per i numeri una startup, non siamo più una startup, siamo come vi ho detto un'impresa magari molto più piccola di grandi imprese, come MV qua, con una storia molto più breve, però ecco non siamo più una startup, ma una delle cose che è stata chiave per noi è stata la collaborazione con le grandi industrie. E questo è il terzo tema che voglio toccare. A volte innovare dall'interno è difficile. Perché è difficile? Perché bisogna fare delle cose diverse da quelle che si fanno tutti i giorni, bisogna fare delle cose che sono un pochino fuori dalla comfort zone e quindi uscire dalla comfort zone è rischioso, si fallisce e quindi bisogna avere quel mindset dentro un'azienda e a volte si tende ad essere conservativi. Perché? Perché abbiamo un business che funziona, il business deve essere portato avanti e quindi il prossimo step di innovazione a volte aiuta il core business ma a volte bisogna saper rischiare per trovarlo. E quindi la parola chiave per me è collaborazione, collaborazione tra impresa e startup. La sliding doors di Nozomi Networks che siamo noi è stata la collaborazione con una grande impresa italiana. Noi siamo partiti, abbiamo creato un MVP, quindi un primo prodotto. Credo di aver bussato a 50-60 porte di aziende di cui io sapevo perché avevo vissuto il problema internamente, l'avevo studiato, sapevo che il problema c'era. Ovviamente noi eravamo early stage anche sul mercato, il mercato diciamo della cyber non era maturo come oggi. Però era difficile, come dire, prendere e dire sì, stallo il tuo prodotto, lo provo. La prima domanda che mi si chiedeva era quanti siete? Dunque tre. Dov'è il vostro ufficio? Allora davo un indirizzo e speravo che non mi chiedessero esattamente dove era perché era appunto una stanza a casa dei miei genitori. Quindi è difficile credere in una startup perché non ci sono i numeri, perché è vero che anche l'impresa che investe e collabora con una startup ha un rischio, il rischio di fallimento è molto alto, perché non c'è una storia, perché non c'è un mindset. Però creare quella collaborazione sana è quello che per noi ha fatto la differenza. Enel, che è un caso, che è stato studiato anche ad Harvard, su quello che Enel ha fatto per un po' di anni, con Francesco Starace che è stato il CEO, era quello di investire nelle startup. Noi Enel ci ha dato una possibilità, ci ha fatto installare il nostro prodotto in una loro installazione per provare che funzionasse, quindi ci ha dato prima cosa una chance e noi lì abbiamo portato dei risultati e subito dopo quando ha visto che i risultati c'erano ha detto io faccio il primo contratto con voi, sarò una vostra referenza, ma da adesso, ai prossimi tre anni, voi date un canale preferenziale sullo sviluppo e noi abbiamo questi quattro problemi che fino ad oggi non sappiamo come risolvere. Quindi proviamo a farlo insieme, qua ci sono le strutture, abbiamo l'expertise, abbiamo le persone, ma voi avete, come dire, quella capacità di muovervi fuori dalla comfort zone, facciamoli insieme. Quindi abbiamo firmato un M.O.U. e per noi è stata una di quelle che noi definiscono a sliding doors, perché siamo diventati una startup di tre persone con un sacco di sogni e motivazioni, ma con un cliente come riferimento. Quindi quando mi veniva fatta la domanda, avete un cliente di riferimento? La domanda era sì, ce l'abbiamo. E Enel in quel caso è stata disponibile a, come dire, rispondere al telefono, a dare una referenza. Quindi il tema, il terzo tema che volevo portare sul tema innovazione era collaborare con le startup. Questo è, secondo me, una cosa fondamentale. Ovvio che non è facile, bisogna appoggiarsi magari a degli incubatori, altrimenti il lavoro diventa estenuante, perché oggi, diciamo, al di là di dieci anni fa fare startup è cool, come si dice a San Francisco, e quindi in tanti vogliono fare imprese e quindi diventa difficile anche per l'azienda capire su quale investire. Per oggi ci sono degli incubatori su cui ci si può appoggiare, ci sono delle strutture per farlo e quindi, secondo me, avere il mindset di rischiare con una startup è un terzo step fondamentale, insomma, che ho imparato sia sulla mia pelle, ma che vedo come modello funzionare molto, molto, molto bene in Silicon Valley. C'è un'ultima cosa che voglio raccontare e dire oggi sul tema innovazione, che riguarda il fatto dei talenti. Ovviamente noi, da una parte come azienda, tutti i giorni, come voi, investiamo un sacco di tempo e risorse per attrarre talenti e trovare persone brave, ma ecco, un messaggio che voglio portare, io siedo in una posizione, tra virgolette, privilegiata dal mio punto di vista, nel senso che siamo molto vicino a Stanford, con cui collaboriamo, quindi una delle università nel nostro campo computer science più famosa al mondo, e dall'altra parte l'Insubria, che è il posto da dove vengo. Prima ho salutato un professore da cui ho imparato la parte innovazione, il professor Marco Astuti, che è qui in sala. Ecco, i talenti che noi vediamo venire dall'Insubria non gli manca nulla rispetto a quello che vediamo alle persone che escono da Stanford. Ovviamente ci sono dei talenti in ecosistema, che però non è solo l'università, ma è l'ecosistema che porta a far nascere delle eccellenze in quel posto lì, ma in realtà noi siamo la maggior parte dell'R&D, continuiamo a farlo con persone che stanno qua, tante persone che vengono dall'Insubria, oggi nel nostro campo siamo ben conosciuti, abbiamo dei ragazzi che da Stanford si sono trasferiti qua perché volevano lavorare nell'R&D di Nozomi, ma il messaggio che voglio portare è investiamo sui nostri talenti perché a volte si pensa che all'estero ci sia delle risorse, delle capacità diverse, a volte è così, ma molto spesso non lo è. Ovviamente ogni settore è diverso, in questo caso faccio un ragionamento sul tema computer science. Ecco, questo chiude un pochino quello che vi volevo raccontare sulla parte di innovation, che è la parte che io ho imparato in questi anni e poi concludo parlando di due temi, che sono due temi che oggi nella Silicon Valley le imprese che sono diciamo più in voga lavorano su due filoni in particolare, tre. Ovviamente il tema cyber è uno di questi, ma il tema AI, artificial intelligence. voglio toccare in particolare quel tema, oggi viene usata e a volte abusata da tecnico, l'altro founder dell'azienda ha fatto un dottorato su AI, noi la utilizziamo da sempre in azienda, ma secondo me è importante molto in fretta non avere paura di quello che oggi l'AI può portare in ogni differente settore, in ogni settore di business, perché ecco rimane un tema per fare imprese in modo diverso. Bisogna uscire un pochino dalla comfort zone e l'AI ci può dare una mano a fare delle cose in modo un pochino diverso. E anche oggi ecco il messaggio che vi porto è che la maggior parte degli investimenti, che sono billion of dollars in Silicon Valley, oggi passano attraverso cyber security, automation efficiency, quindi e in particolare diciamo la tecnologia, la base di questo è il tema AI. Quindi non lo vediamo come un meccanismo che può cambiare qualcosa che facciamo da tanti anni in modo molto utile, ma vediamola come un'opportunità per fare qualcosa di diverso e renderci più veloci e più efficienti. E con questo concludo. Grazie mille. Grazie mille.